pensavate di esservi liberati per sempre dei tamponi ma guardate le mie spalle tutto vero è ufficiale la notizia ufficiale tornano amici i tamponi covid siete collegati non siete collegati siete collegati non siete collegati non so non vedo ancora non vedo ancora nulla amici notizia ufficiale abbiamo appena postata pochi istanti fa sul paragone.it notizia degli ultimi minuti di oggi sabato 9 settembre 9 9 2023 pensate anni dopo si continua con questa cosa qua con questo con questo pandemonio generale e oggi a distanza di due anni ormai dalle dalle famose delle famose campagne mediatiche si riparte con una nuova campagna mediatica che vadano a non si dice laura stai buona ciao caro buon pomeriggio anche te ciao jenny siamo collegati ciao allegra vedo i primi collegati ancora pochi e sta arrivando in questo è arrivata la notifica in questo momento sta arrivando la notifica all'ospedale di livoro non hanno mai smesso di farli michela michela ciao walli grande ciao cara ci sono per una volta ti becco in diretta è bruna è bruna non lo so perché non lo so perché perché su 300 mila persone mandano 20 notifiche devo ancora capire questa cosina qui vi chiederei prima cosa di condividere perché dobbiamo discutere la notizia in tanti no in tra più siamo meglio è ovviamente più siamo meglio è anche me più divertente se siamo tanti a far casino allora attenzione tornano i tamponi covi notizia reale dell'ultima ora scritta dall'amico gabriele angelini non bastavano le mascherine parte così gabriele non bastavano le mascherine e le nuove circolari del ministero della salute sui vaccini adesso tornano anche i tamponi non se ne esce più e questo è un dato di fatto amici ogni dubbio è lecito guardate la maglia sto per produrle stiamo preparando le maglie in settimana manderemo in stampa le maglie ogni dubbio è lecito che ormai è diventato uno spot nazionale quindi preparatevi perché faremo le regaleremo queste maglie a chi sosterrà la pagina regaleremo le maglie sarà un omaggio in base chi vorrà donare per sostenere la libera informazione gli verrà regalata la maglia ogni dubbio è lecito detto questo non sono ancora pronte ribellarsi punto e stop dice maria e maria non è che sono di ribellarsi che stanno che alla fine volenti o non lenti li mettono no ma se fosse solo il tampone o sembra di essere nel 2020 vi ricordate 2020 no invece siamo nel 2023 per quello che all'inizio precisato 9 9 2023 ma qualcuno forse non se ne è accorto evidentemente no o semplicemente non riesce a farsene una ragione mentre nessuno pensa più al covid e non gli si dà neanche la minima importanza il successore di speranza orazio schillaci fa un giro di vite sulle strutture sanitarie ripristinando regole uguali per tutta italia sui tamponi quindi cosa cambia dunque vi dirò tutto appena sarete collegati perché cambia qualcosina amici cambia qualcosina da pochi giorni fa quindi cambio importante che devo comunicarvi come spiega il fatto quotidiano quindi abbiamo preso la notizia che ha che ha sapientemente elaborato il fatto quotidiano allora tornano i test per gli accessi ai pronti soccorso e nei reparti arrivano indicazioni anche per gli operatori sanitari ai 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 ma vediamo nel dettaglio cosa cambia e chi deve fare attenzione siete pronti siete pronti io vorrei vedere una condivisione non vedo ancora c'è c'è qualcuno di voi che non ha condiviso lo so lo so perché io ho un algoritmo speciale che vede se condividete o meno quindi quelli che non hanno condiviso devono condividere adesso comunque buongiorno robbie non se ne può più con sto covid dice piero enrico e ti dà ragione attenzione ok siamo pronti vedo che avete condiviso bravi altri 50 non hanno condiviso quindi condividete grazie la nuova stretta con cui tornano i tamponi e contenute in una circolare dal direttore generale del ministro della salute francesco vaia mentre ripartono gli allarmismi pilotati no sulla curva epidemiologica e sulle nuove varianti ecco che si ritorna alle vecchie regole non c'è speranza speranza non c'è non preoccupatevi allora qui attenzione si parla di nuovo di misure utili a salvaguardare i fragili isolari positivi ed evitare il collasso delle strutture il collasso in realtà è dell'intero sistema sanitario pubblico come certificato da un recente studio della fondazione gimbe ascoltate in seguito al definanziamento della sanità con i soldi regalati alla big farm invece che agli ospedali lo sappiamo pure soldi regalati per le armi soldi spediti ovunque per andare a ricostruire 50 palazzi in ucraina quando qua non non danno soldi per niente stendiamo un velo pietoso ma lasciamo stare quello parliamo di sanità dal 31 ottobre 2022 non era più obbligatorio il tampone all'arrivo dei pronti soccorso ma cosa cambia ora siete curiosi un'altra condivisione e ve lo dico siete curiosi cosa cambia il ministero amici e amiche ha disposto che all'accesso scattino i test per chi presenta sintomi compatibili con il covid quindi un raffreddore uno starnuto un colpo di tosse e non solo e non solo non ci fermiamo qui attenzione quindi test obbligatori poi tornano i tamponi dunque secondo la nuova circolare i test dovranno essere effettuati anche per la ricerca di altri virus come quelli influenzali quindi mo facciamo i tampone per tutto avete capito tamponi per tutti in sostanza dovrà essere effettuato un tampone anche ai pazienti che dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato di covid 19 con esposizione negli ultimi cinque giorni sono per ora esclusi dall'obbligo di testare di testarsi gli asintomatici incredibile quindi gli asintomatici teoricamente per ora sono esclusi salvo che non debbano effettuare ricovero o trasferimento in setting assistenziale ad alto rischio cioè reparti in cui ci sono pazienti immunodepressi e fragili strutture protette o rsa quindi se uno va dentro rsa ricoverato deve reparti speciali tutti obbligatorio anche se sta bene se non ha niente il tampone per la quale indicata l'infezione di test per chi viene trasferito in una di queste strutture in maniera programmata o di urgenza inoltre andiamo agli operatori sanitari siete pronti un'altra condivisione e ve lo dico gli operatori sanitari va di nuovo inoltre gli operatori sanitari che presentano sintomi compatibili con il covid dovranno evitare di accedere nei reparti di agenza e ambulatori dove ci sono pazienti fragili quindi verranno o demansionati o spostati a fare altro amici piano piano qual è il sunto del discorso tornano i tamponi covid non solo piano piano sono tornate le mascherine tornano i tamponi amici siamo nel 2023 settembre 2023 2020 21 22 23 e siamo ancora in ballo costamenata sempre peggio ogni giorno metteranno una cosina in più una cosina in più ma io mi chiedo dopo tre anni di figure di m figure di m di m puntini 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 continuano a cercare di fare figure di m puntini 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 hanno capito questi qua che la gente ormai li guarda e ride sorride per compatirli l'han capito ma tutti sinistra destra cento qua non esiste cioè chi va al potere alla fine perde la testa ma hanno capito che la gente ha capito la presa in giro secondo voi l'hanno capito mettetelo nei commenti io vorrei una condivisione perché hanno come dice michela hanno rotto ampiamente le bols hanno veramente rotto ampiamente le bolse cioè a questo punto io mi dico non so ci vogliono obbligare a vita mascherine tamponi ogni anno saltano fuori con queste cose lo faranno per sempre amici ogni dubbio è lecito per quello che ho fatto le maglie perché vorrei vedere la gente girare questa maglia in giro che dice ogni dubbio è lecito ok quando ci presenteremo davanti agli ospedali per entrare in ospedale con ogni dubbio è lecito capiranno che sono un branco di non diciamo cosa io non offendo nessuno ma veramente offendono la nostra intelligenza quindi dandovi come dice come dice paolo un buon sabato a tutti cambia come dice mauro cambia governo ma la solfa è la stessa amici che dire che ogni dubbio è lecito ma io un dubbio non ce l'ho che questi qua sono fritti come gli altri sono tutti fritti dal primo all'ultimo e viva la frittura italiana ciao a tutti buona giornata buona giornata in caso di diarrea ci vuole il tampone si anale però scusate mi è scappata ciao a tutti buona giornata buon sabato buon sabato questa sera diretta dal frigo dove farò cantare geni una canzone dedicata a tutti voi gratis è gratis non chiedo niente vi farò vedere la geni che canta per voi vi voglio bene buona giornata e buon sabato a tutti